il tiro mamma mia che gol giornata Socher Cup The Hammers contro Bad Beat The Hammers in maglia bianca mentre Bad Beat con la casacca gialla stessa giornata di campionato ricordiamo arbitro dell'incontro Sergio Sanziano un minuto di silenzio per fermare Borosino seguiamo anche il tocco il bocca al lupo alle due squadre al secondo tempo al prossimo episodio 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 al prossimo episodio